Ciao a tutti e benvenuti sul canale AC News. Oggi vi darò una breve anticipazione sulla riprogrammazione dei programmi di Maria De Filippi, dopo questi giorni di lutto, per via della morte di Maurizio Costanzo. Ma prima di tutto, se vi va, iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Il primo programma a tornare in televisione sarà C'è posta per te, che andrà in onda sabato in prima serata su canale 5. Si parla, ovviamente di puntate già registrate, come nel caso di Amici e Uomini e Donne. Amici, tornerà da domenica alle ore 14, su canale 5, con la solita puntata domenicale. E da lunedì, con il daytime. Invece per Uomini e Donne, questa settimana slitta, non andrà in onda nessuna puntata. Quindi, a meno che non ci siano nuovi cambiamenti, torneranno le solite puntate su canale 5. In onda ogni giorno alle 14.45, da lunedì 6 marzo. Maria De Filippi riprenderà a registrare nuove puntate.